Come sta? Molto bene. Guardi, sarò sincero, tutti la davano per favorito. Visto il tweet di Fassino, io ho preparato l'intervista sulla tua vittoria. Sicuro che se la sente lo stesso di farla? Eh sì. Sicuro? Non è obbligato. Certamente. Ok. Segretario, cosa si prova ad aver vinto le primarie del PD dopo tutti questi anni di duro lavoro per il partito? Mi scusi, è inopportuno, lo so, forse dovrei cambiare domanda. No, 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 no. Lei non condivide le sue emozioni, vero? Poco. Da questo punto di vista tengo molto, molto dentro. Quando è l'ultima volta che ha pianto? Beh, è stato quella sera lì. La sera delle primarie? Sì. Cosa le risolleverebbe il morale in questo momento? Fare il calciatore. Ah. Io avrei voluto fare il calciatore, capito per caso a far politica. Venga con me. 87, 88, 89, 90. La vedo già più sereno. Da quando è che non si prendeva una pausa? È un bel po'. Colpisca come se in porta ci fosse Fassino. Questo è il segreto, se pensa a Fassino fa sempre gol.